Prego, signore. Salve! Alla Beatrice! Cocco, cara! Sì, c'è il vestito, mia cara! Come va, Cocco? Se non fossimo noi a venire qui, non ci vedremo mai, sei scomparsa! Ma guarda! Guarda che meraviglia! Si parla molto della tua boutique? Boutique? Ah sì, è vero, è vero. Tu hai sempre avuto una grande facilità per tutte le lingue. Poliglotta, si dice. Hai capito, un'altra parola difficile per versi delle arie. Ci sono delle meraviglie qui dentro, che lusso! Sì, però, è tutto talmente caro. Beh, ma si tratta di roba fine, sono abiti di alta classe, c'è visto? Sì, sì, ricordo ancora quando cominciasti. Ricordo il trac, 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 di quella vecchia macchina per cucire. Io non so come hai fatto a non lasciare i piedi negli ingranaggi. A colpi di pedale e salivo. Sì, hai ragione. È vero, l'ago e il filo ti hanno portata molto in alto. È inevitabile che ogni volta che ci riuniamo, dobbiamo punzecchiarci. È una specie di iniezione che dà nuovo vigore alla nostra amicizia di vecchia data. Ah, ma sedete, sedete, sedete qui. Oh, grazie. Buongiorno a te, sì. Grazie.